Diventa arte contemporanea il set dell'Amica Geniale, la serie tv di successo ispirata al libro di Elena Ferrante e protagonista di Visioni dal set, la mostra realizzata al Museo Madre di Napoli con gli scatti di Edoardo Castaldo, fotografo di scena ufficiale della serie televisiva. Per me è stata un'esperienza bellissima, anzitutto sul set perché il lavoro sia di scenografie, di luci, è stato un lavoro straordinario. La prima sensazione è stata con costumi bellissimi, è stata quella proprio di essere riproiettati negli anni 50, quindi diciamo che in quegli anni la fotografia di strada si è diffusa e l'immaginario dei fotografi che si sono formati, il mio immaginario si forma proprio su quegli anni, su quelle immagini, quindi è stato un po' come ricostruire l'immaginario e l'iconografia della fotografia classica sulla quale io mi ero formato. Chi ha partecipato all'inaugurazione questa mattina negli spazi del Museo d'Arte Moderna di Via Settembrini ha avuto anche la possibilità di visitare il rione Luzzatti, dove è stato ricreato cinematograficamente il quartiere della Napoli anni 50 in cui si svolgono le vite dei protagonisti del romanzo. Ad accompagnare i primi visitatori la presidente della Fondazione Donna Regina, Laura Valente, e il direttore del Madre, che della mostra è anche il co-curatore con Silvia Salvati, Andrea Viliani. Il cuore di questo progetto è la storia di Lila Elenu, una storia che ha interessato, appassionato più di 10 milioni di lettori nel mondo, con la quadrilogia dell'amica geniale di Elena Ferrante. Dobbiamo ringraziare questa storia, quindi Elena Ferrante, per aver fatto di Napoli, della cultura partenopea della regione Campania, negli ultimi 50 anni, una matrice culturale che ha appassionato questo pubblico.